Ma non potremmo fare una cosa, ma non potremmo bussare la mamma e c'erisci invece chiamare quando torna ettero? E non si può. Quelle sabato ore e i culetti sono partito per l'ordesso. E non si portavano pure la ettero a presa? E se lo portavano a farvi, non mi raga la manca la vera. Poi venivano fuori e le so con l'autobus. Non sa nessuno puoi, non sa una. Non dire così. Quello è un ragazzo che ha avuto un'infanzia difficile. E dire una famiglia, se no mi fai fare fino a su. Ma quando torna lì la metto dice... L'undurito bello! Ma santi, allora i mafambres, eh? Fai una cosa, provare una bella zuppelatto. Quelle bello di papà, ma chiano piano, eh? E sanno zancano! E io, ma io non arrivo a capire una cosa. Perché la di così capisci? Scepa! E io non arrivo a capire, come mai? Arrivo direttamente l'opignoramento e non avessero avuto a mannare una lettera di abiz. E la bisulaccia a me. Oh, e tu? Ma io ho detto una cosa. E tu, ma? E... ma che si sape che cosa? Ma il che la bruciotta è così preciso, se l'aveva avuto, ma diceva. E allora il che caspito si tratta qua? Eh po? Eh, eh! Eh, eh, eh! Eh, eh boccetti… Eh? Si può avere la terza caffè? Buonorgono! Ehi! Buonquino è buono, ovunque Ma il caffè c'è qua la mia o no? Noi, non ci portai niente. Fallo con il caffè che lei ce l'ha derogato. Non ci prendiamo proprio.